Signore e signori buonasera, benvenuti a casa mia e ben ritrovati come sempre qua nel disordine della mia libreria. Allora, son tornato a girare per mercatini, son tornato a comprare libri e ho trovato questo interessante libro dello storico piemontese Gianni Oliva intitolato Le tre Italie del 43, l'alibi della resistenza, la riunione in un unico volume di due saggi pubblicati da Oliva all'inizio degli anni 2000. Allora, l'introduzione che vi leggo ci dice che il fascismo è stato una camicia di forza che ha soggiogato il paese con la repressione oppure un regime che ha saputo manipolare il consenso. La lotta di liberazione è stata il riscatto complessivo della nazione oppure l'opera di una minoranza che ha permesso alla maggioranza di evitare i conti col proprio passato. L'Italia del 25 aprile basta a cancellare l'Italia delle guerre di aggressione del 40-43, quanta zona grigia c'è stata nel ventennio e negli anni di guerra e con osservazioni spesso provocatorie i due saggi raccolti in questo volume pongono al centro dell'indagine la memoria dell'Italia repubblicana cercando insieme le ragioni del mito resistenziale e quelle dei tanti silenzi. Le foibe, l'esodo dall'Istria, i crimini di guerra italiani, il famigerato armadio della vergogna che già ben conoscete. Un contributo originale alla rielaborazione critica della nostra storia recente. Gianni Oliva, storico di indiscutibile valore, autore di interessanti volumi come i vinti e i liberati, i Savoia, la resa dei conti, Umberto II e anche di alcuni volumi sulla storia degli alpini e dei carabinieri. Gianni Oliva analizza l'Italia del ventennio, un'analisi secca, precisa, puntuale, anche provocatoria come ha spiegato l'introduzione, ma è una provocazione tutt'altro che campata in aria. Perché? Allora, le tre Italie del 1943, la Resistenza, la Repubblica Sociale Italiana e nel mezzo tutta la vasta zona grigia di coloro che attendevano dei galleggiatori professionisti, detta così com'è, di quelli che per pavidità, conformismo, attitudine restarono in attesa, spaventati dal futuro, incapaci di emettere un timido belato. Ricordiamoci la storia del giuramento dei professori universitari al regime. Su circa 2000 professori universitari in 12 si rifiutarono di giurare fedeltà al regime fascista. Quando uno dei tanti che giurarono, fedeltà al regime fascista, disse perché lo abbiamo fatto, perché non abbiamo avuto un sussulto di dignità, perché abbiamo rinunciato a esprimerci? Semplice, perché siamo tutti pecore. Pecore. Piancia o meno, anestetizzati da vent'anni di regime e dal cronico e tipicamente italiano opportunismo, il popolo italiano stava in gregge ad aspettare quello che succedeva. Esagero? Insomma, forse sì, probabilmente, ma le considerazioni del libro di Oliva sul consenso del regime e l'adesione degli italiani al regime sono chiare e oserei dire anche spietate. I saggi di Oliva sono stati scritti nei primi anni 2000, ma sono tuttora molto validi e attuali. L'Italia e gli italiani nel libro di Oliva non è che ci fanno sicuramente una bella figura come nazione, come popolo, come esseri umani non ci facciamo una bella figura e non ne usciamo anche propriamente bene, tutt'altro. A livello morale e di mentalità diciamo che ne usciamo proprio con le ossa rotte. Oliva fa un'analisi sintetica, chiarissima e puntigliosa, che mette a nudo pavidità, conformismo e la triste ipocrisia di un popolo abituato a rifiutarsi di pensare. Sì, gli italiani sono un popolo che ama rifiutarsi di pensare. Non riescono gli italiani a rinunciare al comodo rifugio della massa. Ripeto che l'analisi fatta da Oliva sul consenso al fascismo è estremamente chiara e riporta alla luce quella cosiddetta zona grigia in cui la grande maggioranza degli italiani visse, e ripeto, spesso volendolo fare, durante il ventennio e ancor più nei venti feroci e terribili mesi della guerra civile, cioè chiamiamola col suo nome, dal 43 al 45 in Italia ci fu la guerra civile. Insomma, tra l'8 settembre 43 e il 2 maggio 45, quando i tedeschi si arresero e la Repubblica Sociale Italiana, stato nato già morto, diciamoci la verità, si dissolse tra vendette, fughe ingloriosi e l'atroce catarsi di Piazzale Loreto. Oliva, in questo libro, esamina la mentalità italiana, il modo in cui gli italiani vissero sotto il fascismo, la reazione alla caduta del fascismo. Chi fedele al duce, chi ha la ricerca di riscatto dopo la sconfitta e chi, la grande maggioranza, a cercare di sopravvivere. Allora, i due saggi di Oliva sono un utilissimo, piccolo e agile strumento per capire, per entrare in un periodo convulso, confuso e tremendo, che è quello del post 8 settembre 43. Ha fatto un lavoro sorprendentemente completo, Oliva, nella sintetica esposizione e ci racconta con sincerità estrema e grande rigore la tragedia di un popolo. Come ho già detto, ci ritenevamo protetti dal regime, la sanguinosa delusione del fascismo. I pochi che cercarono di salvare onore e umanità, i tanti che galleggiarono e gli altri che continuarono la lotta a fianco dei tedeschi. Che vi posso dire? Un libro, questo di Oliva, ripeto, da leggere, da studiare con attenzione e da tenere presente quando si affrontano certi argomenti. Si apre il libro con una citazione di Jaime Pintor che diceva che un popolo portato alla rovina da una finta rivoluzione può essere salvato soltanto da una rivoluzione vera. Oggettivamente questa rivoluzione vera in Italia non c'è mai stata, perché, aggiunge Oliva, aggiunge anche un'altra citazione di Rosario Romeo che dice La resistenza, opera di una minoranza, è stata usata dalla maggioranza degli italiani per sentirsi esonerati dal dover fare fino in fondo i conti col proprio passato. La vergogna della mancanza di una Nuremberg italiana, la paura italiana di affrontare le proprie responsabilità, la realpolitik del dopoguerra e le bassezze di cui siamo capaci come popolo. Quindi, cari signori, procuratevi questo libro, lezzetelo con attenzione, come sempre fatemi sapere, come sempre ditemi che cosa ne pensate. Quindi vi auguro una buona serata e arrivederci alla mia prossima recensione. Buonanotte. Buonanotte. Grazie.